Presidente, lei ha evidenziato lo sforzo importante di aeroporti di Puglia per i voli Bari-Mosca, però la Puglia è grande e varia. Noi veniamo da Taranto, abbiamo la questione Arlotta. Questione voli civili, a che punto siamo? Come sapete, la concessione di aeroporti di Puglia è una concessione unitaria su quattro sedimi aeroportuali, di cui tre ha rilevanza nazionale e una ha rilevanza regionale, che è l'aeroporto di Foggia. I due aeroporti civili e commerciali sono quelli che conosciamo tutti, Brindisi e Bari. Sull'Arlotta di Grottaglia e Taranto c'è un discorso molto importante avente valenza industriale e proprio di una settimana fa neanche la notizia che lo spazio porto di Arlotta-Grottaglia è stato scelto come il sedime naturale per fare questi voli suborbitali che andranno in onda tra poco. Benvenga questo sviluppo tecnologico, futuristico però per rilanciare il turismo. I voli civili all'Arlotta servono come il pane, d'altronde abbiamo una struttura che viceversa dal punto di vista turistico sarebbe così sprecata e sappiamo tutti le grosse difficoltà che ha Taranto, il turismo sarebbe l'ossigeno vitale. Noi siamo sempre pronti avendo un aeroporto così grande come pista ad avere quello di Arlotta-Grottaglia non abbiamo nessuna preclusione ad aprire voli civili, ben inteso ovviamente compagnie permettendo. Sapete che il business aeroportuale è un business che si legge sulla disponibilità delle compagnie a volare su un sedime aeroportuale. Magari anche con incentivi per stimolare queste compagnie. C'è l'ente pubblico, l'ingiustizia attraverso l'aeroporto di Puglia, sono rivolte a tutte le compagnie. Se le compagnie manifesteranno interesse a volare su Arlotta noi avremo volentieri. Non c'è nessuna preclusione, questo voglio dirlo. Per concludere, c'era sembrato che ci fosse qualche divergenza tra Regione Puglia e Arlò e aeroporti di Puglia per quanto riguarda la destinazione dei voli civili dell'Arlotta. Tutto superato? Non c'è stata mai nessuna, anzi abbiamo fatto anche un tavolo di lavoro importante tra Regione, aeroporti e anche gli enti locali preposti per far sì che tutti gli enti, le persone che gravitano su questo territorio partecipano attivamente al processo di sviluppo di un aeroporto così importante. Una curiosità, quando sono stati realizzati i lavori di adeguamento della pista all'aeroporto di Bari, si è chiuso lo scalo barese e si è riversato tutto su Brindisi. Domanda, non si poteva sfruttare l'Arlotta di Grottaglie? Teoricamente si può sfruttare tutto, però deve capire che questa è una decisione che non spetta all'infrastruttura, spetta ai vettori. I vettori c'è una conferenza di servizi, una conferenza che viene fatta a livello di vettori che decidono, tant'è vero che non tutti i voli sono andati a finire su Brindisi, solo una piccola parte e peraltro abbiamo ampiamente recuperato già con il mese di aprile il calo di traffico naturale che c'è stato. La ringrazio.